L'Ambrocar, concessionaria Opel, Cologna Monzese, Viale Lombardia, Sesto San Giovanni, Via Carducci, Vimercate e Via Rovereto. Visitate il sito www.lambrocar.it per avere a portata di click tutte le promozioni e oltre 150 vetture chilometri zero aziendali e usate. Da L'Ambrocar vi aspetta per un test drive la nuova Opel Corsa Bicolor con prezzi a partire da 9.950 euro. L'Ambrocar, la tua concessionaria Opel.